ben ritrovati cari ascoltatori cari ascoltatrici e a voi spettatori del nostro canale youtube io sono pandi e come vedete oggi sono qui nuovamente nello studio ortica di ritorno ormai da qualche giorno dalla sardegna e pronto per raccontarvi cosa è successo all'ulassai festival ulassai o ulassai chi lo sa tu lo sai domanda che mi sono fatto dopo aver raccontato ad un'amica sarda di essere tornato da questo posto fantastico ricco di opportunità per chi ama l'outdoor e lei sarda mi fa ma come ulassai ulassai e allora ho detto ma che per tre giorni sono stato sul palco e ho sempre pronunciato male il nome di questo paese e loro sono stati così gentili da non avermi mai corretto allora ho detto facciamo così affidiamoci ad un esperto locale ed ecco la sua risposta ue marco cosa c'è in corso una scommessa si dice ulassai non ulassai un esperto locale davvero davvero particolare perché nell'ultima edizione precedente a questa del 2024 dell'ulassai festival che è stata fatta pensate nel 2019 a me sembrava ieri avevo incontrato mario in una veste molto tipica di conduttore di asini e quindi molto diciamo folcloristica la sua immagine e invece sono tornato dopo cinque anni e sapete che cosa mi è diventato mario un chiudatore di falesie fantastiche fatte proprio per chi vuole venire lì in vacanza e cominciare con dei gradi accessibili godersi delle bellissime pareti e proprio di questa falesia ci ha parlato nel nell'appuntamento in cui io e lui siamo stati ospiti di climbing spot quindi andate magari a rivedervi la puntata di climbing spot che trovate appunto sul nostro canale youtube e sentite tutti i segreti o le informazioni per divertirvi al meglio quando tornerete o andrete per la prima volta ad ulassai detto questo cosa è successo in questi giorni di festa venerdì abbiamo dato il via al formale a tutto quanto il festival insieme a me sul palco c'era anche il vice sindaco luigi de idda che saluto e ringrazio per l'ospitalità che il paese e lui come portavoce di tutto il paese di ulassai ha dato a noi ospiti che venivamo sia dal continente ma anche diciamo dall'europa ci sono stati tanti ospiti internazionali come un po ormai abitudine di ulassai e lo sappiamo per chi conosce il luogo che ormai tanti stranieri anche grazie proprio al contributo che gli amici del mannai hanno dato anni fa aprendo le porte a belgi e non solo belgi per per arrivare ad arrampicare a chiudare e a fare sempre di più a rendere sempre più attrattivo questo questo posto posto fantastico perché viceversa voi che non ci siete mai stati immaginatevi di arrivare lì guardi da una parte ci sono falesie guardi all'altra ci sono falesie dove non vedi ci sono falesie fai un po di passi esci dal paese o vai in vetta vedi il mare quindi che cosa volete di più un posto fantastico quindi grazie per averci ospitato grazie a luigi de idda e insieme a lui abbiamo presentato un po le varie attività e le varie discipline che sono state presentate io ho parlato tanto di arrampicata ma la disciplina che ha fatto sicuramente più guardare in alto tutti gli ospiti del festival è stata la High Line che anche quest'anno per la seconda volta infatti già nel 2019 era stata attesa questa linea che attraversa praticamente tutto il panorama di fronte ad Ulassa i 470 metri era stata percorsa l'anno scorso e anche quest'anno è stata percorsa proprio da anche da perché non solo da lei anche da la ragazza che poi nella serata di sabato ha fatto ha presentato il suo spettacolo di tessuti aerei questo per dire tante attività vi lancio già alcune cose High Line che ovviamente è stata montata e gestita diciamo grazie agli amici dei moti perpetui e quindi ringrazio Niccolò che è stato il portavoce che ha presentato un po questa attività e a proposito di Slack Line oltre a quella lunghissima e quindi anche molto come si dice molle effettivamente perché non poteva essere ovviamente tesissima che avevamo visto per aria c'è stata anche una grandissima attività di animazione e di spettacolo da parte degli amici della Spider Line che facevano vedere i loro trick sulla trick line e poi hanno fatto davvero provare anche a tanti l'emozione di riuscire a rimanere anche solo in equilibrio per qualche secondo sulla fettuccia molle quindi grazie a loro per la grandissima animazione e il grandissimo entusiasmo che hanno dimostrato in tutte le loro esibizioni esibizioni che si sono alternate dicevo a tante attività che si sono svolte all'interno del village tra cui anche quelle diciamo canoniche che riguardano il risveglio mattutino l'attività di Pilates e di yoga Pilates fatta da Beatrice e yoga a cura di Eli se i cognomi non li ho segnati non preoccupatevi però spero che loro mi perdonino per quanto riguarda Beatrice devo anzi scusatemi non l'ho ancora fatto ragazzi anzi scusami tu Marco di Takumako perché Beatrice insieme a Marco gestiscono Takumako era stato mio ospite per invitarvi tutti all'Ula 6 Festival nella puntata di Climbing Radio in Tour di Lancio ma lì è stato davvero un grande regista un grande supporto mi ha fatto anche da valletta quindi davvero davvero grazie per tutto l'impegno che hai messo in questo festival tornando a noi e tornando alle attività quali altre attività? attività che direi tanti vedono mischiata soprattutto nei blocchi moderni anche se magari i bulderisti agonisti non lo vogliono ammettere che è il parkour ovviamente non si è fatto sulle rocce si è fatto in un ambiente in cui gli amici del parkour Cagliari hanno ricreato gli spazi per permettere di fare salti salite così nella zona del lavatoio sempre lì a Ulassai quindi bravissimi per due giornate sono rimasti lì a far provare da il principiante a chi magari forse qualche salto già lo sapeva fare e ha un po' stupito anche i vari passanti che erano di lì passanti che sono stati anche tanti abitanti di Ulassai che giustamente escono e vedono che cosa succede nel loro paese sempre con un bel sorriso e magari ogni tanto arrabbiati perché qualche macchina non era parcheggiata bene ma i vigili sono stati bravi, molto attenti complimenti, complimenti a tutti e complimenti alle persone che sono state brave a non rendere difficoltoso un evento in cui arrivano veramente tante tante persone torniamo a noi torniamo a raccontare le cose belle non solo arrampicata, non solo highline ancora come già proposto negli anni precedenti tanto mountain bike e trekking per andare a riscoprire le aree che ci sono attorno a Ulassai mountain bike fatta in due modalità una tipo race che ha avuto anche delle premiazioni abbiamo visto proprio una partenza ufficiale qui quasi modalità gara e in altra invece fatta per chi proprio voleva soltanto godersi una bella passeggiata guidata una bella pedalata guidata in mezzo a questo fantastico panorama oltre se uno non andava in bicicletta poteva tranquillamente anche andare a piedi grazie ai trekking proposti dalle guide escursionistiche di sardinia e motion che hanno proposto anche un tour pensate solo per i bimbi senza genitori genitori che lasciano affidati a mani sicure per qualche ora potevano anche rilassarsi e intanto i bambini cominciare a godersi al meglio questa natura incontaminata perché per quanto fossimo in tanti a me sembra ancora davvero quasi incontaminata la natura attorno ad Ulassai che dire, che dire perché mi sto sto andando di corsa perché di cose ne abbiamo fatte tante non possiamo usare questa puntata per due giorni non vorrei dimenticarmi nulla torniamo quindi alle attività proposte durante questo festival una delle attività è stato anche un laboratorio di riflessuologia plantare di cui non ho potuto beneficiare come cavia dell'effetto piacevole e non ho neanche assistito del tutto perché doveva essere una cosa diciamo abbastanza concentrata quindi non ho potuto stare lì ad intervenire o a fare l'intervistatore durante questo workshop oltre a questo molto seguito e molto richiesto abbiamo visto anche un workshop di Slow Food che è sicuramente stato il mio preferito allora cosa si impara a questo laboratorio di Slow Food? si impara a fare la fregola la fregola? si che è? la tipica pasta sarda si passa da una sufruttura e sta facendo una ripresa certo ve la faccio a tutti poi allora guarda c'è la mia amica qua che è campionessa mondiale questa è già la fregola è già pronta questa? è già il risultato finale? con la fregola 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 è un'altra cosa esatto fregola e il procedimento cosa prevede? allora bisogna mischiare la farina con l'acqua bisogna riuscire a bilanciare le tene per provare molto le mani quindi è proprio solo un gioco di mani una pasta che non si impasta non si impasta però devi invitare a cena poca gente partecipare molto a tempo molto a tempo ho un bagno d'oro in dito o da solo o da solo o da solo o da solo chi è l'allievo migliore qua? è che c'ha la mano più fregola? posso l'alienzo posso l'alienzo posso scipare il più bravo è il più bravo anche al sole anche al sole all'aria basta che la stendete e si sentiamo bacio ecco una volta che ha preso forma si mangia? è pronta? sì è pronta quando fa queste paline così è pronta vedi? si charla è la nostra prima lezione quindi va essiccata per quanto tempo? lo sappiamo? la signora non ce lo dice allora la maestra è quella laggiù è l'oro chiaramente è essendo il cappello eccetera come lascia? la stendolo al sole al sole ok e poi tra fai odore la posso piacciare deve essere pura 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 e poi come la cura? miscaro dite che tu sei brava per lasciare nel sacchetto di qualsiasi? sì sì dai 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 raccoltaci allora ho scoperto che va essiccata due ore al sole dipende dal tempo ok per esempio la faccio nel forno nel tricola per dono a 100 gradi allora no adesso visto che la stendono al sole deve diventare bella dura cioè deve diventare dura quindi poi quando la metti nell'acqua si scioglie quindi fai bollire l'acqua un po' di sale la metti dentro e poi anche la lasci cuocere 10 minuti assaggi ok e poi la convisci con il sugo con le verdure con quello che preferisci altrimenti la puoi fare anche come il riso ok cioè la fai un po' bollire però prima la scoli a metà cottura e la metti nel tuo papagli ok con una padella con una padella con una padella con un risottare con un generale risottare più saporita così più saporita con 5 minuti nell'acqua e poi il resto della cottura nella ventola le verdure quello che preferisci quindi farina bianca giusto? no semola di grano duro ah ok che è questa bella grossina qua c'è un sacchetto questo è semolato perché è più facile per le persone che sono poco praticate se non si fa solo con la semola di grano duro ok ok grazie mille buon lavoro buona continuazione e come avrete capito qualche problema di pronuncia ancora ce l'ho ma migliorerò nelle prossime spedizioni che farò a Olassai e lo capirete anche nel corso della prossima intervista che vi propongo che è quella che ho fatto con il portavoce del soccorso alpino che tra i vari lavoratori che proponeva c'era anche questo per conoscere un'applicazione molto interessante per chi si muove in outdoor Barbara Iba raccontaci un po' questa applicazione che ha presentato qua a Olassai Festival il soccorso alpino e speleologico buongiorno buonasera a tutti Gioresc non è solamente un'app è appunto un servizio che è stato sviluppato dal soccorso alpino e speleologico appunto ed è stato ed è promosso dal club alpino italiano e nonché appunto tramite il supporto attualmente del ministro del turismo è un'app assolutamente gratuita per tutti ovviamente i maggiori fruttori sono quelli che vanno in montagna rampicatori biker insomma tutti quelli che vanno in un ambiente montano un impervio a cosa serve quest'app? la funzione fondamentale dell'app ha diciamo svariate funzioni ma in realtà l'app principale è quella del fatto che consente all'utente a chi furisce di quest'app di poter mandare un allarme in caso di necessità se si è fatto male lui o se ha visto appunto un incidente può appunto mandare un allarme che sarà già localizzato e chi lo vede quest'allarme? quest'allarme lo vediamo lo vedono due centrali operative una si trova a Sassare e l'altra a Cassanerpino dove ci sono dei tecnici di centrale che 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno ricevono quest'allarme quindi possono gestirlo chiameranno l'utente e potranno appunto dialogare con lui telefonicamente o tramite una pagina di messaggistica ma comunque anche se noi per mancanza di campo telefonico o per qualunque altro motivo non riusciamo a parlare con la persona invieremo comunque del personale del soccorso alpino a verificare appunto quello che è accaduto e che area copre questo servizio? tutto il territorio italiano assolutamente non è un'applicazione che funziona solo nel territorio strato ma in tutta Italia è territori diciamo di confine con cui il soccorso alpino ha già dei rapporti come possono essere appunto la Svizzera la Slovenia con cui già abbiamo una collaborazione la Francia dove si trova l'applicazione? dove si può scaricare? nella Play Store nelle Play Store sia appunto per iOS che per gli Android possiamo trovare appunto cercando Georesco e possiamo tranquillamente scaricare l'app grazie mille grazie a voi soccorso alpino che a Ulassai è al festival di Ulassai era presente davvero chiamiamolo in forze non tanto per soccorrere e credo non ce ne sia stato bisogno mi sembra non ho sentito di nessun incidente durante questi giorni di attività outdoor ma per festeggiare i 40 anni del soccorso alpino dell'Olgiastra e infatti c'era Christian Iba sul palco per dare il benvenuto a tutti i venerdì insieme a me insieme al sindaco e un po' a tutti quelli che hanno presentato le varie attività e quindi loro hanno fatto proprio una bella festa anche insieme a noi hanno fatto una festa nella festa e oltre a presentare questa applicazione si sono prodigati ore 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 a fare che cosa a far provare a scalare tutti quelli che volevano provare sulla paretina dai più piccoli che ovviamente sono forse i più interessati i più affascinati e quelli che devono provare di più ma anche i più grandi e quelli che dicono eh magari ma io ormai sono troppo vecchio ormai sono no no provate 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 perché l'arrampicata è proprio questo e poi magari provando scoprite di essere anche voi dei campioni proprio come i campioni che sono stati ospiti all'Ulasai Festival uno veniva da fuori ok Alessandro Zeni di cui gli più assidui ascoltatori di Climby Radio hanno già sentito o visto l'intervista che gli ho fatto proprio lì a Ulasai e che è andata in onda venerdì scorso la ritrovate tra i nostri podcast di Voice of Climbers ovviamente tra i video più recenti del nostro canale YouTube Climby Radio andate a risentirvela tra gli aneddoti che racconterò appunto un sistema di di gradazione che ci eravamo inventati tra noi fratelli fin da quando eravamo proprio piccolini che era un dei gradi che mi venivano assegnati a me dai miei fratelli maggiori che mi dicevano quando iniziavi sei ghiro di nido e pian pianino diventavi sempre più alto col grado era una sorta di scuola invece che con i numeri con gli animali più abili a muoversi in parete ovviamente i miei fratelli maggiori erano già scogliatoli volanti io sono partito ghiro di nido e per arrivare a diventare scogliatolo volante c'è stato tutto un processo che ha durato appunto trent'anni trent'anni e saper divertirsi e trovare un modo per alleggerire un contesto che magari a volte sai ci troviamo lì e abbiamo delle frustrazioni perché non ci riesce una cosa ma ci ricordiamo che alla fine quando abbiamo iniziato ci siamo messi le scarpette per la prima volta è stato proprio perché avevamo un istinto nel farlo e volevamo farlo per divertirci ecco questa questa cosa qui penso sia la cosa fondamentale che dovrebbe unire noi tutti come arrampicatori e oltre ad Alessandro Zeni un altro grandissimo arrampicatore sia per il livello di arrampicata ma per davvero anche la storia della sua vita che ha raccontato a tutti gli ospiti dell'Ulasai Festival e che racconterà un po' anche a tutti noi amici di Climbing Radio nella puntata che andrà venerdì questo venerdì domani appunto qui su Climbing Radio e sul nostro canale parlo di Klaas Willems che è un atleta del team La Sportiva che ormai è un local a Ulasai sentiamo questa è la prima volta io ho lavorato in campeggio in Turchia in Gheik Bahiri io sito scusami e anche Paolo ha lavorato lì e Matteo Cappa è venuto per una vacanza e ha detto a me se vuoi chiudere altre vie sono passato una volta in Ulasai e lì c'è tante vie per chiudere in 2012 penso c'è solo 100 vie più o meno così e abbiamo detto come che facciamo vacanza con Paolo Sofi Matteo e anche Liz è venuto e quando sono venuto lì era veramente buonissimo ho visto tante possibilità per le vie per chiudere e sì questa è la prima volta che sono venuto ma da 2012 ogni anno sono tornato e sono molto fortunato che anche altri amici come Paolo Sofi Matteo Liz e dopo l'anno scorso anche Ruben e Franchi sono venuto e hanno pensato a fare un B&B non hai e così era anche più facile pervenire di più come dicevo per sentire tutta l'intervista con Klaas appuntamento quindi a domani a Voice of Climbers mentre invece cos'altro è successo loro hanno fatto le due presentazioni una venerdì sera e una sabato sera nella grande piazza ma oltre a loro abbiamo visto anche dei cineforum molto interessanti i titoli adesso non me li ricordo tutti però gli argomenti sì uno era al di là del muro con il racconto di quattro ragazze su come quattro ragazze che vivono in Sardegna alcune sarde alcune sarde trapiantate tra cui appunto c'era anche Beatriz che raccontano il loro modo di vivere l'arrampicata ok quindi non soltanto gradi non soltanto ma la loro passione è stato molto bello molto coinvolgente un altro documentario che è stato anche già visto in parecchie rassegne nazionali è stato Rughe che parlava appunto dell'arrampicata a livello di intervento sociale nel Montenegro e se non ricordo ma anzi non ricordo molto bene poi invece il documentario che riguarda il progetto Savanzada che è una a tutti gli effetti adesso una palestra di Cagliari molto frequentata con un bel gruppo ben avviata andate magari a ricercare su internet questi nomi che vi ho detto per scoprire al meglio quello che hanno potuto scoprire gli ospiti dell'Ulasai Festival che poi sabato sera ha visto la cena tipica per tantissimi che si sono messi in fila per gustare al meglio questo arrosto cucinato appunto durante la giornata con grandissima attenzione e per gli appassionati devo dire con un ottimo risultato e tanta musica tanta musica ovviamente c'è stato un DJ set che a luna ha provato a mettere della musica un po' non piacevole ma la gente non se ne andava e ha fatto bene tant'è che poi domenica non tutti i workshop sono andati a buon fine però vabbè quando si dice festival perché si fa festa se no sarebbe un un team cioè scusate sarebbe un incontro agonistico o un seminario lo chiamerebbero in altri modi festa si è fatta ed è quello che poi ci fa rimanere contenti che ci fa venire voglia di tornare in un posto dove ci si diverte e in un posto che ormai è diventato così importante che oltre al festival c'è addirittura il fuori festival vediamo o sentiamo oh non scappare ti ha beccato questa volta cin cin festa abusiva qua eh abbiamo uno uno importante uno della radio guarda qua super box con birra alla spina griglia e poi basta siamo pronti non chiamate l'asle non chiamate l'asle non so se passiamo con l'asle non voleva mettere i tavoli dentro Alessandro si vergogliava perché fuori il mare dopo c'è freddo ma gli ho detto Alessandro il primo momento è un po' buio però poi dopo quando diventa buio non vedi più esatto poi ci avevamo anche i servizi c'è il water potrebbe venire anche Sean Villanueva allora che ha sempre dei problemi di queste cose questo per dirvi che Ulassai è così tira su una sala cinesca ti apre le porte e la festa c'è sia durante il festival che probabilmente in ogni buona occasione in cui degli amici si vogliono ritrovare per divertirsi magari parlare un po' di arrampicata o magari anche parlare di tante altre belle cose io spero di avervi raccontato al meglio questa bellissima esperienza di avervi ricordato se l'avete vissuto insieme a me qualche bel momento o di aver fatto venire voglia per raggiungerci tutti quanti al prossimo appuntamento con l'Ulasai Festival un saluto da Pandi e buone scalate a Ulassai a tutti quanti Climbing Radio a tu a tu Grazie a tutti.